Stata! Ora finito! Attivo alveare! Alveare restauratore traditori rilevato Alveare restauratore nemico rilevato Torretta cecchino traditori rilevata Torretta cecchino di rica rilevata Attivo la torretta! Torretta saltatrice tra l'ultimo rilevata Torretta saltatrice rilevata Torretta saltatrice rilevata Torretta saltatrice rilevata Torretta saltatrice rilevata Attivo la torretta rilevata Segni vitali critici Di nuovo in piedi! Niente di dole, risposta. Arrivalo! Granata! Da qui non puoi arrivare! Attivo il lanciatore chimico! Devo espostarlo! Faccio ciò che devo! Un breve contrattempo! Alveare restauratore traditore rilevato! Alveare restauratore legnico rilevato! Guarda se! Già secco! Perfetto! Tutto ok! Agente traditore eliminato! Il fondo è davanti! In questo tempo, in questo tempo con feria un fake pillotto... Quindi i costri e le volvangenie nel rapporto! Non funzionino con due metri Badia. Grazie.